Siamo un gruppo di italiani e italiane che vivono a Barcellona. Insieme ad amici, non solo italiani, assistiamo seriamente preoccupati a ciò che avviene in Italia. Vogliamo organizzare una nave che parte da Barcellona e arrivi a Genova. Sarà la nave dei diritti, che ricorderà la nostra Costituzione e la sua origine, laica e pluralista. La centralità della libertà e della democrazia vera, partecipata, trasparente, dai luoghi di lavoro, alle scuole, ai quartieri, ai servizi, al territorio. Ricorderà che cultura e arte sono i punti più alti del genere umano. Sono fonte di gioia e piacere per chi li produce e per chi ne beneficia. Non sono fatte per il mercato. Ricorderà che il pianeta che abbiamo è uno, è questo, questo è il nostro mare di tutti i popoli. Ricorderà che esistere può voler dire resistere, difendere la propria e l'altruidignità, conservare la lucidità, il senso critico e la capacità di giudizio. Ricorderà che chiunque ha diritto di esistere, di spostarsi, di viaggiare, di migrare, come ha diritto che la sua terra non sia sfruttata né depredata. Ricorderà che le menzogne immobilizzano, mentre la verità è rivoluzionaria.